Appassionati di hockey, buonasera e ben collegati al centro polivalente per la diciannovesima giornata del campionato di serie A1. Questa sera il Gamma Innovation Sardana del mister De Rinaldis si trova ad affrontare dal Veneto l'Ubero Kerbassano del mister Roberto Zonta. Un saluto da Lorenzo Venè, Silva, Baggio, Amato. Passaggio pericoloso di Gameres ma intanto c'è un rigore, primo rigore della giornata, autore dell'unica rete del Bassano nella gara di andata. Gameres contro Corona, traversa piena di Gameres, incredibile, ora deve recuperare il Bassano, riesce ad interrompere il passaggio in Luzzi, manda avanti Olmos che è dentro l'area, il portiere è sdraiato a terra, la palla va dentro, rete, rete di Olmos. Sarzana 1, Bassano 0. Terza rete personale di Olmos contro il Bassano. Diciannovesima rete, tanto è ripartito di Sarzana, schiaccia gli Ortiz ed è 2-0. 2-0 del Sarzana, Facundo Ortiz. Palla comunque ancora del Bassano, scuccato per Gameres. Trova Silva che dentro l'area, traversa e rete. Un gol bellissimo di Ivo Silva. Porta il Bassano a un gol di distacco. Manda avanti Silva e nel cadere riesce a trovare un gol splendido. Ma intanto è ripartito il Sarzana con Garcia che nel rimpallo di De Rinaldi riesce a mandarla dentro. Un altro gol splendido. Spalla contro spalla di Ortiz riesce a recuperare benissimo e trova Borsi. Indietro il Pedre Rinaldi, dentro l'area Borsi, al volo, Garcia! Un gasplendile azione del Sarzana. Magistrale azione del Sarzana che riesce a trovare con una serie di passaggi velocissimi. E il tiro al volo di Garcia. 4 a 1. Da solo contro Silva. Trova il tiro ma la palla è raso terra. Parata di... Parata ma l'arbitro vede il rigore. Fischio dell'arbitro carica il piatto. La palla è dentro. Sarzana 5, Bassano 1. Davide Borsi. Larga per Ortiz che dentro l'area alza e schiaccia. Ma steccata in pieno petto. Quindi secondo rigore. Fischio dell'arbitro carica il piatto. Finta. Questa volta prende il pattino del portiere. Non c'è di regolarità secondo l'arbitro. E quindi risultato fermo sul 5 a 1. Intanto il tiro del Bassano. Ma l'ottima parata del portiere. Però c'è il rigore. Ai danni del Sarzana per una trattenuta. Palo pieno. Sarzana ancora una volta. Che si salva ancora una volta grazie ai suoi pali. Può tendersi la palla. Intanto il neo è entrato Ortiz. E c'è il cartellino blu. C'è il cartellino blu. Ai danni di Facundo Ortiz. Curva. Vediamo se... Diciera di stacco. Para il piatto. E prende in pieno. Un tiro. Splendidamente eseguito. Quello di Ghimerez. E finisce così. Sarzana. 5. Bassano. 2. Pag. 5. Per